Dalle rotatorie agli asfalti fino agli interventi sulle scuole alla realizzazione di opere importanti come quella del bocciodromo che a breve sarà pronto per l'inaugurazione. L'assessore Enzo Belloni fa il punto sui progetti messi in campo dal comune di Pesaro per il 2021. Siamo pronti per inaugurare il nuovo bocciodromo con tutta l'area riqualificata in via dell'Acquedotto, Palm Track, Skate Park e ora il bocciodromo. Stiamo andando in gara anche per l'acciclabile lungo il fiume e il ponte di collegamento tra i quartieri di Tombaccia e la zona del 25 aprile. Contemporaneamente aspettiamo le ultime validazioni per il progetto relativo al sottopasso dei cappuccini e all'area dell'ex deposito delle locomotive che diventerà una sorta di bike hub con tanti servizi per la città e per i ciclisti in particolare, sempre nella zona del cavalcaferrovia che in settimana partirà con il primo straccio di interventi pari a 175 mila euro per la sistemazione della prima parte del parapetto del ponte. Abbiamo ridotto le carreggiate da 4 a 2 perché la situazione non era ottimale. Adesso iniziamo questo lavoro di riqualificazione che prevede 175 mila euro il primo intervento, abbiamo altri 380 mila euro a bilancio e inoltre stiamo aspettando il risponso del Ministero degli Interni dove abbiamo partecipato a un bando per la ristrutturazione completa del ponte e siamo fiduciosi che tra il 21 e il 22 ci venga assegnato un contributo importante. Nel frattempo stiamo aprendo le buste per la realizzazione della nuova scuola a Lighieri nel quartiere di Soria e avrà un impatto Enzeb quindi dal punto di vista energetico sarà uno dei top e sempre rimanendo su strutture scolastiche la nuova palestra di Via La Marmora contiamo di andare, andremo in giunta la prossima settimana con gli ultimi atti poi andremo in gara e in assegnazione entro l'estate per la realizzazione di questa palestra con 300 posti a sedere per un importo complessivo di 3 milioni e 2. E procedono senza sosta i lavori sulle strade all'interno del territorio comunale anche nei quartieri periferici. Stiamo appaltando 800 mila euro di asfalti sul Monte Ciccardo, Villabetti e Monte Gaudio e contemporaneamente ci prepariamo ad inaugurare la nuova rotatoria di Loreto appena le temperature si alzeranno un po' la ditta farà gli asfalti e pianteremo insomma 10 alberature e poi sarà completata anche quella. Nel frattempo la prossima settimana iniziamo con la realizzazione della rotatoria che è attualmente provvisoria di Borgo Santa Maria e la renderemo definitiva. Teniamo particolarmente anche il discorso delle ciclabili. La prima che dovrebbe partire sarà la ciclabile di collegamento di via Fratti.